Musica Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti a redibagno. Tu scegli? Noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Il mese di luglio inizia ancora con il dominio dell'alta pressione africana, ma con la tendenza ad una graduale attenuazione del caldo e dell'AFA. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 1 ci mostra una situazione buona. Il contesto infatti risulterà decisamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono dei temporali sparsi sulle zone montane, localmente fin verso le aree pianeggianti. Temperature, come detto, un po' in calo, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, tanto sole ovunque, anche in questo caso qualche rovescio al pomeriggio, sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dapprima sarà soleggiato, a seguire invece sarà possibile qualche locale temporale. Temperature minime intorno ai 16 e 17 gradi, massime sui 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti a redibagno. Tu scegli? Noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel Aruncade Treviso Previso